Scusi, dottore, posso chiedere a lei? Mi dica. Allora, dottore, io faccio tanta tosse. Ha detto uno. E poi rimango senza fiato. Ssss! Capito? Non lo so, mi dica lei. Eh, che devo dire? Lei fuma? Sì, ma non mi aiuta. No, no. Questa è una cosa strana. Fuma e non aiuta. No. Senti, sta in fondo il tabacchino, che poi sono il socio, là in fondo. Sì. Dove non prendo acqua, prendo da là. Ok. Compra, sigarette. Magari mi toglie qualcosa. Arrivederci. Sicuramente. Ciao, ciao. Non l'aiuto.